I nomi dei matri e dei spiriti e dei spiriti salati, amè, domino salviso, et con spirito tuo. Ci raccogliamo qui, nella Santa Casa di Maria, per riprendere con lei il nostro Signore, attraverso la preghiera italiana dell'Angeles. Siamo certi che il Signore Maria ha cambiato le sorte del mondo e ha permesso al figlio di Dio di farsi carri e di vivere il pezzo tra un uomo e con l'uomo. Vogliamo dirci a tutta la Chiesa, al Santo Padre e a Padre Francesco e a tutti coloro che si raccomandano alla nostra preghiera. Per ringraziare il Padre del Cielo per il dono del suo figlio in mezzo a Dio e per ringraziare anche per il dono della Vergine di Maria. A finché non lei è insieme, possiamo diventare noi stessi strumenti della misericordia di Dio e di sua moglie a vivere finno ai non figli della terra. angelus, domini, impidenuzi avvirti, Maria e fungere il Spiritu Santo. Ave Maria grazia vera, donna sve, beneditta tu inrien ei benedittus. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.